Presso l'UGL di Crotone è stato inaugurato lo sportello di consulenza per la scuola. Sarà in funzione e a disposizione di tutti gli operatori della scuola, degli alunni e dei genitori, ogni venerdì dalle 17 alle 19. Per me è un momento importante perché in ogni nostra provincia calabrese noi stiamo portando quella che è la voce della scuola. Io sono orgogliosa di questo percorso perché per me l'UGL scuola, mi pregio di essere il segretario nazionale, è un presidio molto importante per quanto riguarda sia la tutela dei diritti dei lavoratori, della conoscenza dei lavoratori dell'istruzione, tutti, tutti dai docenti, ai collaboratori, agli assistenti amministrativi, assistenti tecnici, al personale dirigente, tutti. Nel corso dell'iniziativa c'è stato un vivace dibattito sulle tematiche della scuola con particolare riferimento alla situazione del crotonese. Questo è il primo passo ma noi abbiamo intenzione di aprire altri sportelli tutti i giorni. In questo momento particolare forse c'è più esigenza ancora più che prima di andare in questo momento particolare a lavorare fuori, c'è lo smart working ma non è assoluto, ci sono tante problematiche che la federazione della scuola vuole cercare di attivare per venire incontro ai singoli diritti dei lavoratori.